Musica Quest'oggi vi presento il mio cocktail che si chiama Turistas Musica Come primo ingrediente abbiamo la vodka Norvig alla mela verde Le aggiungo 3cl Musica Con i secondi ingredienti vi propongo un liquore al passion fruit Le aggiungo 2cl Musica Il terzo ed ultimo ingrediente alcolico vi propongo un liquore ai fiori di San Pino Musica Infine andiamo a colmare il tutto con un sodato al pompino rosa Musica Escoliamo delicatamente Così da non sgasare il sodato Aggiungiamo un top di ghiaccio grossolanamente spezzato Musica La decorazione Ed infine le canucce Ecco a voi Turistas